eccoci e bentornati sul mio canale oggi torniamo nuovamente a parlare di bonus preorder perché nel corso di questi giorni di queste settimane sono aumentati rispetto al famoso video che vi feci diverso tempo fa dove avevo parlato di tutti i vari bonus che avremmo avuto nel caso in cui facessimo il preorder di call of duty world war 2 faremo una netta distinzione fra il preorder digitale e il preorder fisico così vedremo cosa ci sarà da una parte e cosa ci sarà dall'altra allora partiamo subito con il preorder di call of duty world war 2 in versione digitale otterremo ben tre cose la famosa mimetica nazi zombies che è una mimetica animate e di cui potete vedere un video dettagliato sul mio canale youtube poi troveremo la division pack quindi il pacchetto di personalizzazione dei nostri personaggi per le cinque divisioni e poi il bonus è svelato alcuni giorni fa il multiplayer upgrade potremo sbloccare un'arma definitivamente e completamente all'interno del multiplayer del gioco e o avere anche doppi punti arma per 4 ore dal lancio ovviamente del gioco quindi cosa veramente molto ma molto interessante quindi preorder digitale 3 bonus andando a fare invece il preorder fisico dalle mie informazioni è sicuro che avremo il multiplayer upgrade e il division pack mentre per quanto riguarda la mimetica nazi zombies dipenderà dal rivenditore quindi nel caso in cui doveste andare a fare il preorder di call of duty world war 2 dal vostro rivenditore di fiducia sentite bene quali sono tutti i bonus che sono contenuti appunto nel preorder perché se no lo comprate digitale e avrete sicuramente i tre bonus preorder di cui vi parlavo precedentemente allo stato attuale per ottenere questi tre bonus basterà fare il preorder di qualsiasi versione digitale di call of duty world war 2 quindi va benissimo anche la versione standard qui sotto nei commenti fatemi sapere se avete preordinato il gioco digitale o fisico ma soprattutto se ancora non l'aveste fatto fatemi sapere quale versione siete intenzionati ad andare a preordinare e noi ci vediamo con tanti nuovi video